Napoli produce il suo compost, un fertilizzante molto diffuso grazie al trattamento dei propri rifiuti differenziati. Il primo sacco di questo prodotto made in Naples è stato consegnato al sindaco Luigi De Magistris. Il primo cittadino e il presidente della SIA, Rafael Rossi, in viale di Pini e Colli a Minei, alla presenza di alcuni bambini delle scuole limitrofe, hanno depositato il compost nei giardinetti comunali. Il presidente della SIA ha poi parlato della raccolta differenziata a Napoli del sistema porta a porta, che nel quartiere dei Colli a Minei è attiva dal 2008 e che da poco è partita a Scampia e dentro la fine dell'anno partirà anche a Posillipo. A Scampia stiamo raggiungendo risultati eccellenti, ha dichiarato Rafael Rossi. È impossibile dare una percentuale esatta dopo pochi giorni, ma emerge chiaramente che i cittadini stanno svolgendo una raccolta di altissima qualità. Dopo Scampia, a concluso Rossi, sarà la volta di Posillipo, dove stiamo preparando gli ultimi elementi tecnici. Il censimento c'è già stato, le squadre sono state organizzate e dobbiamo solo individuare le zone per fare le centraline.